Ma sei stanca, vuoi che facciamo una pausa? No. No. Vedrai che lo sono a rinno. Ma è la fase più importante del mio lavoro. Devo guardare il legno, farmi guidare la luce sulla forma che contiene. Quanto tempo, Gregorio? Non lo so, un'ora, forse. Ciao. Manuela. Devi entrare a te.